Ora che fare teatro, fare cinema è sospeso in una bolla, aspettando che la bolla si rompa e si possa tornare nei teatri, nei cinema, beh ora vogliamo raccontarvi la storia di una donna che ha fatto la storia del cinema italiano senza che quasi nessuno se ne accorgesse, da cattive ragazze. Elvira Coda Notari, 1875-1946. Elvira da bambina sognava di fare la maestra, oppure la ballerina di Tarantella o anche la modista. Di certo il giorno in cui arrivò a Napoli non immaginava come la sua vita sarebbe cambiata. Napoli le sembrò enorme e caotica in confronto alla sua Salerno. Uè, è il vostro figlio Vincenzo, sta bene? Iì, sta bene, ringraziando la Madonna. Tutta roba fresca, tutta roba fresca. Vedrai che Napoli ti piacerà. Avrebbe vissuto lì, insieme all'uomo che aveva appena sposato. Nicola Notari era un modesto pittore di fotografia. All'inizio del Novecento non esistevano le pellicola colori e le foto si dipingevano a mano. Elvira si occupava della casa e dei bambini, ma la vita di casa Liglia, le stava stretta. Oh, senti Nicola, ho avuto un'idea. Con le tue conoscenze di fotografia potresti lanciarti in un settore più redditizio, se vuoi. E ti do una mano. Non ti capisco, Elvira. Di cosa stai parlando? Il cinematografo, Nicola. Facciamo il cinematografo. Elvira era una donna colta e sveglia e aveva uno straordinario fiuto per gli affari. Era il 1905. Il cinema era stato inventato solo da dieci anni e la sua industria era in forte espansione. Nicola e Elvira fondarono la Dora Film e con i loro risparmi acquistarono una cinepresa patè. Ehi, funziona! E cominciarono a produrre i primi film. Nicola si occupava delle riprese e degli aspetti tecnici, mentre Elvira scriveva le sceneggiature e curava la regia. Era la prima regista donna d'Italia. Motore azione! Poiché non avevano abbastanza soldi per gli studi di posa e le luci, giravano tutte le scene nelle strade e nei cortili della città. Gli attori erano non professionisti, il figlio Edoardo, familiari e amici. Sebbene la società fosse intestata a Nicola, era Elvira a tenere saldamente le redini con il suo piglio decisionista. La troupe le aveva affibbiato un significativo soprannome. Ehi, è finita la pacchia! Arriva la marescialla! Dai suoi attori, Elvira pretendeva una recitazione realistica, molto diversa da quella artificiosa del cinema dell'epoca. Per ottenerla, fondò una scuola di arte drammatica che dirigeva lei stessa. Un vero attore sente tutte le emozioni del personaggio, soffre e gioisce con lui. E se il personaggio piange, voglio vedere lacrime vere. Per aiutarvi, pensate a un episodio doloroso della vostra vita. Ma, in più di un'occasione, questa scelta le procurò delle noie con la forza dell'ordine. Ehi, ma cosa succede? Infame! Io ti ammazzo! Ehi, presto! Andiamo a vedere! Oh, brigadiere! Ma quale rissa! Il coltello è di cartone, non lo vedete? Ora fateci il piacere di lasciarci lavorare, che abbiamo una certa fretta di chiudere la scena. Quasi sempre, le protagoniste dei film di Elvira erano donne. Ma donne vere, cariche di sensualità, passionali, determinate, lontane, anni luce, dalle figure stilizzate dei film dell'epoca. Tipica figura femminile di film muto italiano. Tipica figura femminile di un film di Elvira Notari. Le ambientazioni erano sempre popolari. Elvira raccontava la vita nei bassi di Napoli, le miserie dei pescatori, le ingiustizie subite dalla povera gente. Questa adesione alla realtà dell'Italia meridionale provocava molte critiche sulle riviste del Nord. No, in nome di Dio, questi spettacoli non dovrebbero mai essere replicati in un teatro elegante, per la dignità del nostro cinema nazionale, che Elvira Notari vada a rastrellare vongole nel porto della sua bella Napoli. Eh, non te la prendere Elvì, l'Adora Film può fare a meno della loro approvazione. Era vero. Le opere di Elvira erano amatissime dal pubblico. Per alcune pellicole le sale cinematografiche furono costrette a organizzare proiezioni dalle nove del mattino fino a notte fonda. Il pubblico popolare si immedesimava così tanto nelle vicende raccontate che in qualche caso finì per confondere la realtà con la finzione, come una volta che uno spettatore volle intervenire per far fuori il cattivo. Le produzioni di Elvira ebbero un grandissimo successo anche presso la comunità di italiani negli Stati Uniti. Elvira e Nicola aprirono una sede dell'Adora Film a New York. Ma purtroppo la loro avventura stava per terminare nel 1922, quando salì al potere Benito Mussolini. Non tollereremo più nessuna opera che induggi nella rappresentazione di povertà, miserie e altre sventure. L'Italia è un paese sano e vigoroso. Mussolini non tollerò molte cose. Gli oppositori politici, ad esempio, e le donne che si rifiutavano di adeguarsi al modello della donna angelo del focolare. Per Elvira la vita si fece dura. Signora notari, perché non fa un bel film sulle nostre imprese coloniali, eh? Sta sempre a raccontar disgrazie. Non dovete dirmi voi cosa raccontare nei miei film. La censura fascista impedì l'esportazione dei film in America, ma Elvira continuò a farli circolare clandestinamente. Uè, paesà! Ho l'ultimo film della notari! Infine, fu costretta ad arrendersi per il suo lavoro, non c'era più spazio. Nel 1930 chiuse la Dora Film e lei si ritoriò a vivere in una tranquilla cittadina di provincia. Dopo Elvira Coda Notari, l'Italia ebbe poche registe donne. Nelle storie del cinema scritto e negli anni seguenti, i suoi 60 film furono attribuiti al marito Nicola. Per lungo tempo di lei fu dimenticato anche il nome.